I più sportivi in campo e fuori sono stati loro. La squadra Lancers Baseball Club 1982 di Lastra Signa si è aggiudicata il premio Fair Play Educare Tifando, promosso dalla città metropolitana di Firenze, per valorizzare la correttezza nello sport tra chi gioca e chi va a tifare. I criteri comprendevano una serie di punti a seconda degli episodi visti in campo e sugli spalti, con il segno più se virtuosi, con il segno meno se poco rispettosi dell'avversario, dell'arbitro o del pubblico. La squadra giovanile Lastrigiana è quella che ha riportato il punteggio più alto. Abbiamo cercato fondamentalmente di dare dei buoni insegnamenti, una buona educazione a loro e soprattutto nel rispetto del Fair Play, nel rispetto degli avversari, anche dei compagni di squadra, dei tecnici e dei propri genitori che fanno dei grandi sacrifici per portarli al campo. Lo sport può essere un volano per costruire non soltanto gli aspetti coordinativi, le performance, perché sicuramente è anche questo lo sport che deve mirare a vincere le medaglie per le nostre federazioni, per il nostro paese, ma deve anche costruire una società migliore. Io dico sempre che attraverso lo sport noi costruiamo dei campioni, ma costruiamo i cittadini e le cittadine di domani. Calcio, basket, pallavolo, pallamano, rugby, baseball e pallannuoto. Partite disputate da ragazzi tra gli 11 e i 15 anni sono state sotto la lente della giuria, composta da campioni di discipline diverse che si sono ritrovati a giudicare uno sport che non era il loro. Un progetto che ha coinvolto CONI, Azzurri Italia, veterani dello sport, Unione Stampa Sportiva e atleti ed ex campioni come il calciatore Manuel Pasquale, la pallavolista svetrana Coritova, il ciclista Alberto Bettiol. Allora è fondamentale che già anche a livello giovanile si parli di questa tematica perché poi i bambini che sono oggi bambini poi diventeranno adulti. Quindi educare fin da subito nello sport, nella vita quotidiana, penso sia una cosa bellissima. La città metropolitana di Firenze ha svolto e spero svolgerà anche nei prossimi anni. Abbiamo raggiunto 28 testimonial, abbiamo visionato società di 24 comuni diversi su 42 la città metropolitana. Quindi siamo molto contenti dei numeri che abbiamo ottenuto e ci tengo a ringraziare tutti i partner del progetto, della Federazione Alconi, ma soprattutto agli atleti e ai testimonial che sono stati molto disponibili e ci hanno aiutato tantissimo nella realizzazione di questo progetto perché hanno partecipato un entusiasmo, passione e quindi devo dire che se non fosse stato per loro non avremmo mai raggiunto questi numeri. La cerimonia di premiazione si è tenuta al Teatro delle Arti di Lastra Assigna.